Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video nel quale sarà l'ultimo video del canale dei profughi e in questo video vi voglio spiegare il perché chiudo il canale allora io chiudo il canale per il fatto, un solo fatto, quello degli iscrittori cambi perché gli iscrittori cambi è un metodo di fare, mi sembra un bel metodo di fare sia tante views con live e tanti iscritti ma non è così ragazzi perché infatti proprio come potete vedere il mio canale ha 1160 iscritti ma se faccio un video, un video, fa 100 massimo 150 views quindi per dire che la gente se ne frega dei contenuti a lei basta che tu ti iscrivi al suo canale e lei si iscrive al tuo ma se ne strafrega e proprio per questo chiudo il canale perché non ha senso portare avanti un canale dove la gente se ne frega cioè non ha senso e quindi ho creato un altro canale che si chiama Ugo-Piro tutto maiuscolo proprio come il mio nickname nel quale non farò iscrittori cambi naturalmente e caricherò video come nell'altro canale semplicemente che non faccio iscritti ricambi così e quindi la gente di voi che mi vuole seguire per i contenuti che portavo bene mi fa piacere e vi invito a passare nel nuovo canale e iscrivervi e li continueremo a fare i video come abbiamo sempre fatto e per quelli iscritti ricambi vi saluto e niente vi auguro buona fortuna con il vostro metodo che è un po' sfortunato come metodo nel senso che non vi porterà da nessuna parte l'ho appena scoperto, no in realtà lo sapevo da un pezzo però vabbè e quindi ragazzi vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo canale nel nuovo canale ciao ciao ragazzi ciao